Un altro nome si aggiunge al tragico bilancio delle morti sul lavoro. Vincenzo Valente, 46 anni, originario di Latiano, è deceduto in un incidente all'interno di uno zuccherificio della zona industriale di Brindisi. Era un operaio di una ditta esterna, ex dipendente dell'Ilva di Taranto. Valente, secondo quanto ricostruito dalle indagini, era impegnato in alcune attività di manutenzione sul nastro trasportatore che collega lo stabilimento al porto industriale di Costa Morena Est. Il suo braccio, per cause ancora da chiarire, è stato tranciato dall'impianto in movimento. L'allarme è stato lanciato dai suoi colleghi di lavoro che hanno chiamato il 118, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta. La comunità di Latiano è scossa. Anni fa il padre Cosimo morì proprio come suo figlio mentre era al lavoro. Cadde da una scala mentre stava potando un albero. I sindacati continuano a ribadire che manca la sicurezza e che occorre rafforzare la prevenzione. Gli ultimi dati dell'INAIL parlano di un aumento degli infortuni in Puglia dall'inizio del 2024 e rispetto all'anno precedente e la CISL indica Brindisi al primo posto in Italia per gli incidenti mortali. Intanto le organizzazioni territoriali di Fight CIS, Fly CGL e Will hanno annunciato una giornata di sciopero. Carola Dinizio, Sky TG24